Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Giovedì 8 settembre alle ore 21 la piazza del Duomo di Voghera farà da palcoscenico per il concerto benefico dedicato alla raccolta fondi per tutte le popolazioni colpite dal terremoto L'evento, patrocinato dal Comune di Voghera e organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Voghera e dalla dottoressa Marina Zaretti, ospiterà sul palco musica, danza e tanto altro ancora Durante la serata sarà poi possibile per chi volesse dare un contributo a favore dei terremotati Un'occasione per la città di Voghera di aggregazione sociale, un evento di solidarietà condito in chiusura con un piatto di pasta gamatriciana Dottoressa Zaretti, buongiorno. Come è nata questa iniziativa? Sono stata veramente colpita da questo dramma che ha colpito dei nostri connazionali Ho pensato così di fare qualche cosa e soprattutto di cercare di far dare un forte segnale dalla nostra città Così ho chiesto la collaborazione di Croce Rossa e di un amico importante, delle Baiardi, per riuscire a organizzare questo evento Così l'8 settembre tutta Voghera potrà dimostrare unita la propria solidarietà a questi appunto nostri connazionali Che si sono trovati in pochi minuti senza più niente, soprattutto senza più affetti e con tanto dolore L'associazione culturale Voghera è legata alla lista civica Ghezzi, ha espresso la volontà di partecipare a questa iniziativa È possibile che questa iniziativa rappresenti quindi un'unione delle due forze politiche di Voghera? Questa iniziativa non è politica, quindi non mi interessa che venga catalogata a livello politico La piazza sarà aperta a tutti, quindi chiunque può partecipare e non trovo neanche opportuno in questa sede parlare di liste politiche Ondina Torti, buongiorno. Nel corso della conferenza stampa lei ha specificato che durante la serata Sarà possibile donare il proprio contributo con un'offerta alla Croce Rossa di Voghera Che verrà devoluta alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia Ecco, come verranno sfruttati questi fondi? Noi nel momento in cui poi tireremo le somme a quello che si dice Sentiremo il nostro nazionale e poi manderemo tutto al nazionale che provvederà Nazionale si intende la Croce Rossa nazionale che poi provvederà a destinarla dove riterranno più opportuno Noi, a parte tutti i nostri volontari che saranno presenti in quantità numerosi Avremo l'ambulatorio medico dove chiunque potrà visitarlo perché a Voghera è un po' una novità questo ambulatorio Potranno provare la pressione, potranno anche riposarsi perché ci sarà aria condizionata e di tutto e di più Avremo il gonfiabile per i bambini per cui i bambini potranno divertirsi Avremo, quello che diceva la dottoressa Zaretti, metteremo due postazioni con dei volontari che distribuiranno dei volantini E dove ci sarà la raccolta fondi e poi alla fine il piatto di matriciana Durante la conferenza stampa lei ha specificato che gli artisti contattati per questa serata Si sono dimostrati subito molto disponibili a parteciparvi Ecco, quanti e quali saranno gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa? Dunque, il numero esatto delle conferme è 25-26, adesso non vado a memoria Però sono veramente tantissimi, hanno un brano a disposizione a testa appunto Perché iniziando tra le 21 e le 21.15 rischiamo sennò di sforare in maniera eclatante Siamo nel centro della città, quindi disturbo alla quetta pubblica comunque Per l'amministrazione commissariale sicuramente sarà di rilievo E cerchiamo di non dare fastidio in questo senso E i nomi sono i più bravi performer della zona Anche persone che non si vedono nei locali perché sono musicisti che producono O che lavorano in altre situazioni lontane da Voghera Ma che sono comunque vogheresi doc e che hanno di buon grado accettato Anzi, forse devo dire che è possibile che ci sia anche un ospite, un super ospite chiamiamolo Io odio un po' questo termine, ma nel senso una persona che proprio per sensibilità Al di fuori di eventuali impegni artistici che ovviamente lo obbligherebbero a non esserci Se ha la possibilità parteciperà anche questa persona, anche questa artista con un brano Quindi siamo in attesa di questa conferma Sarà presente solo musica o anche altro? Musica e danza, ci saranno parti solo musicali, parti cantate Alcune, credo tre situazioni acustiche Quindi non elettroniche, senza basi Anche perché non abbiamo avuto la possibilità di ospitare band Per via del numero degli artisti, la problematica del cambio palco Quindi la sostituzione degli strumenti E poi la danza e poi i cantanti Oltre Povo Ghiera Parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 E se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone Per informazioni contatta ora al numero 0383 366215